Vince nella prima gara casalinga del campionato l'Amen Scuola Baschetta Rezzo e lo fa contro un avversario di ottimo valore come la Sprinter Mar Carrara per 55-50. Fin dai primi minuti di gioco le difese hanno preso il sopravvento limitando notevolmente il potenziale offensivo delle due squadre, ospiti che vanno avanti a inizio primo quarto, poi però la SBA ricuce subito lo strappo portando la partita in equilibrio fino all'ultimo quarto. Gli Amaranto hanno il merito di tenere qualche lunghezza di vantaggio anche per gli errori dalla lunetta di Carrara che non riesce a riportarsi in parità. Negli ultimi minuti, quando gli ospiti sono costretti ad affrettare le conclusioni, la difesa retina regge l'urto tenendo a rimbalzo i palloni più pesanti e nonostante tre errori consecutivi e i liberi riescono a portare a casa un successo molto prezioso conquistato contro un avversario di prima fascia. Top scorer della gara, l'Aretino Cutini con 22 punti a cui vanno aggiunti dieci rimbalzi catturati. Domenica prossima l'Amen sarà impegnata in trasferta a pesce a formazione che come la SBA ha vinto entrambe le gare fin qui disputate. Oggi è stata una vittoria onestamente non inaspettata perché si lavora per raggiungere questi risultati, però Carrara rispetto all'anno scorso che faceva la Serie C insieme Gold e insieme a noi ha preso diversi giocatori di esperienza, mentre l'anno scorso aveva un progetto fatto completamente dei giovani e credevamo che la loro esperienza fosse uno scoglio abbastanza importante. Invece i ragazzi sono partiti piano piano, sono stati nei primi due tempi in scia agli avversari, non hanno mai mollato e poi nel terzo e quarto tempo siamo passati avanti, abbiamo sempre condotto anche se di stretta misura, abbiamo fatto le cose giuste, le scelte giuste, siamo arrivati al termine dove oggettivamente abbiamo pagato anche un uno su quattro ai tiri liberi perché se no lo scarto sarebbe stato più ampio e magari il patema d'animo degli ultimi secondi anche è minore, però diciamo che abbiamo fatto due partite, due vittorie, quindi questo non vuol dire niente, vuol dire che stiamo lavorando semplicemente bene, pensiamo a domenica prossima, anzi a martedì prossimo che rientriamo a un palestra, lavoriamo e vediamo di fare il massimo di quello che possiamo noi e di noi stessi e questo è l'obiettivo che ci prefiggiamo, sperando che poi basti quando andiamo a giocare per sopraffare anche il nostro avversario sportivo logicamente.